Musica Ci tengo a precisare che sono qui solo in maniera momentanea, in attesa che... Attenzione, Svarione, l'Italeo, l'Italia, attenzione, al terzo dell'aria il tiro, la palla! E' ancora in attacco il Gibellina con Surdi, la palla è saluta da solamente una palla. Gibellina, due balestratesi all'inizio, uno schema, lo vediamo, proprio il tiro, la palla! Gli schemi, solitamente, mette la palla dentro... Attenzione, la palla lunga per l'Italia, che trova il tiro... e la palla si distrae... Tavano, 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 Tavano... Tavano, Tavano... Tavano! Tavano! E' già lo di questo, vediamo! C'era una passione Pato! L'Italia di prima di rigora, l'azione è con Buccia, di rigora un patratto. Pazzola che ha chiuso bene lo specchio, non era facile anche perché l'azione era tutta Proprio Orlando entrare il campo d'ora è finito, la palla è uscita però peccato Pazzola che poteva far sfidare la palla, c'è rilancia il muore e la palla per il suddito E' proprio Prendonino dal punto di vista del gioco E' un po' di gioco, la parte E' un po' di gioco Prendonino E' molto vero Secondo partitano l'otto In favore dei palestrati Che alleggerisce Un periodo di gioco di grande sostenenza Dopo Un quarto moda Diretto predomino del Gimellina Adesso è il malestrato Stacco sulla Sulla parte destra Appello Prova l'azione in solitaria Recupera con Gimellina Il numero 15 Il icono Il numero 15 Passato Il numero 15 Palla Per l'altro Il capitano Il capitano Il capitano Il numero 5 Il capitano a bianco, di appello, si appoggia su un carattario, attenzione, sfondamento, al pubblico, a gran voce, dimenticato, giro la palla, però rimane là, che ha un po' di popolo, azzolano, azzolano, al pubblico, il numero 7 è la palla, di testa, di torre di, dire il vero, non va, non è una strada, ma è un po' di russo, una ventaglia, la rega è muta, vai, mischioni, muta di me, Oh Ora di un'ottima prestazione Tiro!